Le sentinelle in piedi rappresentano l'ultimo ricettacolo del rigurgito razzista italiano perché discriminano le persone omosessuali attraverso il non riconoscimento dei loro diritti e di conseguenza se la prendono con queste persone soltanto per una caratteristica umana questo affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo non siete solo degli omosessuali, siete dei razzisti, degli legati di rischio legati di rischio alle persone omosessuali, siete dei falsi e dei falsari perché non è assolutamente vero che legalizzando il matrimonio egualitario in Italia si toglie qualcosa alla famiglia tradizionale le sentinelle in piedi sono soltanto dei falsi, dei falsari vestiti di perbenismo e dei razzisti grazie grazie visto che state leggendo di me con la dichiarazione di Papa Francesco ci sono io per giudicare un omosessuale punto grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.